Oggi andiamo a scoprire nella sua recensione completa Nokia Lumia 735, questo smartphone di casa Nokia e Microsoft con Windows Phone 8.1 a bordo e Lumia Denim, l'ultimo pacchetto di implementazioni specifiche create da Nokia per i suoi terminali. Cominciamo subito partendo dalla confezione, questa è la scatola con cui arriva Nokia Lumia 735 in Italia, è una dotazione piuttosto scarna, infatti troviamo il terminale in questa parte e sotto qua il caricatore micro USB per ovviamente ricaricare la batteria. Va detto che la dotazione è davvero davvero semplice, non è presente nemmeno un cavo separato micro USB per la sincronizzazione con il computer e soprattutto non sono presenti nemmeno gli auricolari per ascoltare la musica o effettuare telefonate. Il terminale è questo, molto colorato, molto acceso, linee che ricordano Nokia Lumia 920 oppure Nokia Lumia 800 ma anche N9 con Migo a bordo, un sistema operativo molto sfortunato di casa Nokia. È molto leggero, molto piacevole da utilizzare anche con una mano sola grazie alle dimensioni generali del dispositivo e al display da 4,7 pollici. Nella parte frontale troviamo appunto lo schermo con risoluzione HD, tecnologia OLED, la capsula auricolare e la fotocamera anteriore da ben 5 megapixel ad ampio angolo. Non sono presenti i pulsanti perché essi sono stati integrati a schermo e si possono attivare o mandare via con una semplice gesture ed è presente ovviamente il microfono di sistema. Nella parte posteriore la scocca è leggermente bombata, in questo caso è arancione, è un colore molto acceso, molto simpatico. Fotocamera da 6,7 megapixel e un flash led e un secondo microfono per la riduzione dei rumori nel momento in cui si va a riprendere i filmati. Sotto invece è presente lo speaker nascosto dietro questa griglia di forellini. Il lato destro presenta il bilanciere per il volume, il tasto di accensione e spegnimento. Sotto troviamo l'ingresso micro usb, il lato sinistro è sgombro mentre sopra specularmente all'ingresso micro usb è presente il jack per le cuffie, una posizione che a me non piace particolarmente. Andiamo a rimuovere la scocca in plastica di questo terminale. È un'operazione leggermente difficoltosa perché è molto molto ben collegata. Nella parte diciamo posteriore ritroviamo il modulo della batteria 2220 mAh, l'ingresso per le schede micro sd per le espansioni di memoria e l'ingresso per le nano sim. Nella back cover possiamo notare l'implementazione della ricarica wireless, funzionalità molto molto apprezzata da chi utilizza questa tecnologia per ricaricare il proprio terminale. Rimontiamo il dispositivo, come ho detto l'ergonomia è molto buona, si utilizza davvero bene con una mano sola, 4,7 pollici sembra essere la misura giusta, anzi la misura limite con cui si riesce ad interagire con lo smartphone con il pollice senza affaticarsi troppo. La parte frontale è appunto occupata da questo display da 4,7 pollici, la tecnologia OLED permette neri molto profondi, colori ben accurati e angoli di visuale molto ampi. Va detto che però ha una matrice pentile, di conseguenza si può andare a vedere i pixel avvicinando lo schermo agli occhi anche o anche a una media distanza diciamo. Comunque sia l'esperienza visiva è molto molto buona. Come dicevo le performance di questo terminale sono assicurate da un processore snapdragon 400 e un quad core da 1,2 ghz di frequenza, 1 gigabyte di memoria ram e accompagnate da 1 gigabyte da 8 gigabyte di memoria storage. Sono le stesse caratteristiche che ritroviamo su terminali molto meno costosi come nokia lumia 630 o 635 che costano la metà. Di conseguenza mi sarei aspettato qualcosina di più però windows phone 8.1 si comporta sempre molto bene sull'hardware su cui gira e di conseguenza le prestazioni sono più che buone. L'Umia Denim comporta poi delle specifiche migliorie per questo terminale. Troviamo l'opportunità di avere le cartelle sulla home screen personalizzabile con le tile al loro interno in misura, in numero e quantità. Si può andare a scegliere come si può personalizzare l'interfaccia con sfondi, colori e altro e sono presenti anche delle migliorie diciamo sotto la scocca come ad esempio un migliorato motore di rendering per internet explorer, il browser di sistema su questo terminale. Nel complesso le prestazioni sono più che discrete, aspettatevi anche di poter giocare a qualche titolo ma sicuramente non alla massima resa grafica. La multimedialità offerta su questo terminale dà ovviamente l'opportunità di ascoltare musica in streaming con Xbox Music oppure Nokia Mix Radio ma anche dalle due fotocamere. Perché due? Perché sicuramente quella anteriore ha un ruolo molto più interessante rispetto alla media degli smartphone essendo un modulo da ben 5 megapixel ad angolo ampio di apertura che Nokia ha sviluppato specificatamente per i selfie. Infatti è presente un'applicazione che si chiama appunto Lumia Selfie che permette di riprendere degli autoscatti e poi di andare a impostare dei filtri e degli effetti grafici in modo da condividerli poi con i social network alla loro massima qualità possibile. Si può anche andare invertendo le fotocamere a effettuare un selfie con quella posteriore e dei feedback sonori ci aiuteranno ad allinearci con la fotocamera posteriore per sfruttare ovviamente il flash nel caso in cui si vada a fare una foto al buio. Con Nokia Camera si può andare invece a sfruttare al meglio la fotocamera posteriore che però non permette delle performance da urlo diciamo 6,7 megapixel non sono pochi ma non sono nemmeno tanti quindi mancherà specificatamente del dettaglio nelle foto e soprattutto in condizioni di scarsa luminosità sarà presente molto rumore video. I video invece verranno ripresi a la risoluzione massima full hd 1080p a 30 25 24 fotogrammi al secondo si può andare a scegliere il settaggio come si vuole e l'audio è sempre piuttosto pulito grazie alla combinazione dei due microfoni presenti sul terminale. L'esperienza multimediale è più che discreta lo speaker posteriore per ascoltare la musica ha un volume elevato anche se leggermente il suono è metallico non mi piace come ho detto prima la posizione del jack delle cuffie posto qui centrale perché nel momento in cui si va a utilizzare il telefono in modalità landscape è un po' in mezzo un po' né carne né pesce quindi il terminale in generale a me convince e convince soprattutto la durata della batteria finalmente un terminale che arriva a sera ci fa arrivare a sera i 2220 mAh non sono pochi per nulla anzi e sicuramente le ottimizzazioni di windows phone consentono di farci arrivare a fine serata con ancora una percentuale residua non indifferente magari anche un 10 o 15 per cento utenti che usano meno il terminale potrebbero arrivare anche con un 20 o 30 per cento di batteria residua quindi davvero promossa l'autonomia di questo nokia lumia 735 così come è promosso in generale tutto il terminale per 270 euro si porta a casa un terminale di fascia media con connettività lte leggermente sprecata su purtroppo un dispositivo che non è capace di stare dietro alla velocità del 4g se scenderà di il prezzo come sicuramente sarà e magari si assesterà sui 200 220 euro potrebbe essere ancora più interessante il prezzo non è basso ma purtroppo in italia non sembra che arriverà nokia lumia 730 che sarebbe stato lo stesso smartphone senza la connettività lte quindi venduta ad un prezzo decisamente inferiore e quello forse sarebbe stata la scelta più interessante piuttosto che preferire la configurazione 4g sarebbe stata più interessante puntare su quella dual sim per chi ha necessità di utilizzare due schede telefoniche contemporaneamente il terminale a me piace perché è molto bilanciato in quello che offre si utilizza bene ci fa arrivare a fine serata l'esperienza multimediale abbastanza completa anche se non molto spinta e se volete farvi selfie beh questo è il telefono che dovete acquistare questa era ovviamente la recensione di nokia lumia 735 il voto con cui lo lascio diciamo è più che positivo se è per voi positiva anche questa recensione vi invito a lasciare un commento mettere mi piace soprattutto visitare readball.com per leggere la recensione testuale completa dove troverete la galleria fotografica del terminale gli scatti di prova effettuati dal telefono stesso e ovviamente tutti i pareri più completi e le specifiche tecniche noi quindi ci salutiamo al prossimo video per readball.com Andrea Ricci Grazie